Meglio pagare una multa salata che sottoscrivere una polizza d'oro. Devono pensarla in tanti così in Italia. Se quasi 3 milioni di veicoli circolano senza assicurazione obbligatoria, lo rende noto ANIA, l'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici. Questo indica che un considerevole numero di automobilisti preferisce correre il rischio di infrangere la legge piuttosto che pagare il premio delle assicurazioni, che ad ottobre hanno subito un aumento pari al 7,9% su base annua. I costi delle polizze, comunque, non sono tutti uguali. Sfogliando l'indagine dell'Ivas, l'autority che supervisione il mondo delle polizze per conto di Banca Italia, si scopre come il differenziale tra il premio pagato da un automobilista di Napoli e quello corrisposto da uno di osta è pari a 239 euro. Dei ricordare che i trasgressori non se la cavano solo con una multa e la decurtazione dei punti. Il codice stradale prevede anche il sequestro del veicolo, che resta tale fino a quando il trasgressore provvede al pagamento della contravvenzione del premio assicurativo per almeno sei mesi, oltre a farsi carico delle spese di prelievo, trasporto e custodia della vettura sottoposta a sequestro. Se non si paga nei termini previsti e se non si propone neppure alcun ricorso, il veicolo è confiscato. Secondo i dati della polizia, sono molti anche gli automobilisti che non fanno la revisione dell'auto. Una vettura su dieci infatti non ha il nuovo bollino biennale sulla carta di circolazione.